Allora, questa è la situazione degli ospedali e delle terapie intensive a Palermo che ci dà un po' la conferma del professor Bassetti che insomma, purtroppo, nelle terapie intensive la percentuale è altissima, quella di Novax Detto questo, professor Remuzzi, volevo tornare un attimo alla sua intervista che ho letto con molta attenzione, che ha fatto sul mattino Lei parla in maniera abbastanza netta del fatto che dovremmo convivere col virus per altri due anni Mi spiega bene questa cosa, perché le lascio immaginare quanto per noi sia faticoso immaginare un traguardo ancora a due anni di distanza Ma intanto, quando diciamo due anni, pensiamo che potrebbe essere così ma non c'è nulla di sicuro in queste affermazioni perché fare previsioni, considerato un virus che muta così rapidamente è sempre molto difficile Penso che due anni siano un tempo ragionevole per lasciare che questo virus da pandemico diventi endemico e quindi possa circolare come in un certo senso circola il virus dell'influenza, senza però che noi abbiamo due anni di vita come quella dell'anno scorso o come in certe parti dell'Italia, come quella di quest'anno Cioè man mano andiamo avanti, abbiamo vaccini sempre più efficaci, ne avremo molti di più avremo farmaci antivirali, potremo combattere la malattia a casa prima che diventi malattia grave e quindi io credo che la scienza evolve in un modo così rapido che ci possiamo aspettare delle sorprese positive in questi due anni che il virus vada via mi sembra improbabile un virus così contagioso e soprattutto così diffuso al di fuori del nostro paese Ecco perché c'è anche questo, sono d'accordo con lei perché le varianti nascono da quello che in altri paesi il virus circola moltissimo vedi caso sudafricano con un 24% di persone vaccinate Professor, a proposito di Omicron io le devo fare una domanda anche su come si muove la scienza, le case farmaceutiche perché cosa è successo? Quando viene fuori la notizia di Omicron noi stiamo in pieno lavoro per la terza dose che tutti voi medici ci dite che è molto importante che va fatta presto Che succede? Che la Pfizer dice che fra 100 giorni sarà pronto il nuovo vaccino per Omicron quindi intorno a marzo tante persone, anche con noi noi abbiamo sempre un canale aperto con i telespettatori ci dicono beh ma se a marzo c'è il nuovo vaccino conviene che faccio la terza dose cioè non ha la sensazione che rischiamo di dare dei messaggi poi contraddittori già in una fase in cui le persone tendono a essere come dire un po' confuse, impaurite perché il fatto di fare una terza, forse una quarta con tutte cose che poi suscitano dei pensieri, no? Io vorrei dire una cosa generale quando si dice che c'è confusione e che non è stata fatta una buona comunicazione può anche darsi sta di fatto che noi siamo arrivati ci manca pochissimo per arrivare al 90% di persone vaccinate in Italia allora avete mai visto qualcosa che ha raccolto il consenso di 90% della popolazione? vuol dire che la comunicazione non è stata fatta poi così male io penso che la comunicazione ufficiale invece sia stata fatta molto bene non so se qualcuno ha seguito l'intervista del professor Locatelli domenica scorsa da Fazio era un'intervista impeccabile Locatelli che è una persona ufficiale che parla a nome del CTS non ha sbagliato una parola nel parlare dell'importanza della vaccinazione ai bambini un'altra cosa che secondo me è giusto che la gente sappia è che la scienza va avanti per conoscenze che si accrescono giorno per giorno quando noi pensavamo che la seconda dose di vaccino sarebbe stata capace di immunizzarci per molti mesi o per sempre non avevamo i dati che sono venuti in questi giorni da Israele e dagli Stati Uniti pubblicati che hanno dimostrato che in realtà a seconda del tipo di vaccino la capacità di neutralizzare il virus tende a svanire dopo 5, 6, 7 mesi ecco l'importanza di fare la terza dose però abbiamo imparato anche facendo la terza dose che chi fa la terza dose ha un aumento in certi soggetti addirittura di mille volte della quantità di anticorpi e anche della quantità di cellule che sono capaci di combattere quindi è un vero booster cioè ci mette più al sicuro delle altre due? assolutamente assolutamente è come se i primi due allertassero il sistema immune e poi arriva il terzo e trova un sistema immune capace di opporsi al virus in un modo straordinario però c'è la Omicron e allora ci sarà un altro vaccino aspettiamo no la Omicron intanto si è visto che chi ha fatto la terza dose è protetto anche dalla Omicron e questo è stato proprio visto sia da ricercatori sudafricani che americani che da Pfizer quello di Pfizer potrebbe essere un pochino anche influenzato dall'interesse ma sicuramente non quello dei ricercatori sudafricani che hanno portato questa evidenza che è un'evidenza di laboratorio quindi il mio suggerimento è certamente terza dose se poi la Omicron si diffonderà così rapidamente come sembra e davvero a marzo avremo un vaccino che ha passato tutto il valio delle autorità regolatorie faremo questo vaccino ecco, non so ci avviamo poi anche una quarta una quinta cioè lei a proposito del fatto anche dell'endemizzazione cioè lei dice il virus piano piano diventa endemico quindi meno pericoloso però continua a circolare nel frattempo noi di fatto ci facciamo dei richiami come per l'influenza io lo faccio tutti gli anni il vaccino per l'influenza per esempio beh, se fosse così non sarebbe un dramma lo facciamo per l'influenza potremmo farlo per il Covid e questo è un possibile scenario c'è però un altro aspetto la quarta dose certamente va fatta per categorie di persone che hanno un sistema immune debole quelli di cui abbiamo sempre ripetuto trapiantati, idealizzati persone con tumore persone che hanno delle immunodeficienze questi avranno certamente bisogno della quarta dose fino a stamattina io pensavo che gli altri non avrebbero avuto bisogno della quarta dose e l'ho anche scritto sul messaggero stamattina è uscito un lavoro che di nuovo in vitro fa vedere che la protezione con la variante Omicron si ha di più con la quarta dose quindi chi ha fatto non si ha di più c'è la possibilità che anche la terza dose non protegga completamente quindi si dovrà fare per Omicron forse la quarta dose questa però è un'evidenza che è emersa stamattina quindi lei mi sta dicendo la possibilità concreta che per Omicron serve la quarta dose e comincia a emergere perché gli ultimi dati ci dicono questo però secondo me è presto per essere sicuro non si può escludere esattamente ha tradotto in modo impeccabile non si può escludere è presto per dirlo però quando noi diciamo una cosa e poi noi diciamo un'altra non è che ci contraddiciamo questo è importante capirlo è perché nel frattempo vengono una serie di evidenze che non avevamo prima e allora prima lo sapevamo adesso lo sappiamo cioè la scienza procede per accumulo di informazioni dice il professore Remuzzi senta professore lei ha detto un'altra cosa dell'intervista che mi ha molto colpito anche perché il Natale si avvicina ognuno di noi vuole fare riunioni familiari avere a casa parenti lei dice la distanza va tenuta anche nelle riunioni con i familiari anche in casa e possibilmente la mascherina e poi arriviamo al tema bambini che è ancora un altro tema dato che io per esempio avrò i miei parenti a casa a Natale lei quindi suggerisce che tranne nel momento in cui mangiamo la mascherina la teniamo in una fase conviviale diciamo di pranzo natalizio secondo me certo non mentre mangiamo perché questo sarebbe tecnicamente impossibile però io credo che sia prudente quando siamo lì che chiacchieriamo con tante persone che magari vediamo soltanto a Natale e che quindi non conosciamo così bene dal punto di vista della loro storia medica essere prudenti quindi la reazione è la cosa più importante perché adesso il virus si trasmette soprattutto per aerosol e non tanto per goccioline questa è un'altra cosa molto interessante professore cioè vuol dire che io lo respiro il virus quindi la cosa fondamentale è aprire le finestre il virus si respira sì assolutamente perlomeno ogni tanto certo non si può stare al freddo siamo tutti d'accordo però ogni tanto si possono aprire le finestre questo è fondamentale anche nelle scuole è ancora più importante delle mascherine perché adesso il virus non si trasmette tanto per goccioline che passano da un individuo all'altro se tutte e due hanno la mascherina anche se siamo abbastanza vicini siamo un po' protetti ma in un ambiente come quello della festa natalizia dove si canta si parla ad altavoce per esempio la voce è fondamentale quanto più uno canta o parla ad altavoce tante più particelle virali vanno nell'ambiente e quindi l'ambiente diventa un aerosol ricco di particelle virali che si respirano e quindi la reazione è estremamente importante ed è importante però che non facciamo per esempio riunioni con non vaccinati scusi professore questo è veramente fondamentale ha creato la differenza questa cosa di essere passati dalle goccioline alla droplet alla reazione è un effetto della variante omicron? no 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 c'è sempre stato c'è sempre stato anche con le prime varianti solo che dopo un po' prima si pensava che fossero solo le goccioline poi si è cominciato a studiare l'emanazione delle particelle virali nell'ambiente e si è capito che in realtà adesso la maggior parte dei contagi non vengono più dalle goccioline che passano direttamente da uno all'altro con la tosse o con lo starnuto perché quelle sono grandi e cadono in terra rapidamente invece le altre sono molto più piccole vivono nell'aria e la maggior parte dei contagi viene da lì quindi anche nelle feste soprattutto se siamo con persone che non conosciamo non parliamo poi se siamo con non vaccinati dobbiamo essere molto attenti ed essere attenti ai bambini ecco bravo i bambini non si ammalano ma possono avere la classica è la classica rinunione familiare in cui i bambini stanno con i nonni questo tema dei bambini è molto importante questo è estremamente importante i bambini devono stare con i nonni vaccinati e tra l'altro adesso se io devo fare un appello solo farei quello degli ultracinquantenni che non sono ancora vaccinati questi davvero rischiano e queste sono le persone che voi trovate adesso in terapia intensiva quelle sono le persone che rischiano di più e che quindi dovrebbero assolutamente vaccinarsi se non si sono vaccinati ma anche fare la terza dose se non l'hanno fatto perché siamo relativamente tranquilli con i nonni che hanno fatto la terza dose ecco bravo questa è una cosa importante da dire a casa ai nonni il nonno con tre dosi di vaccino può passare il Natale con suo nipote perché sai che i nonni hanno avuto molta paura dei nipoti è più tranquillo assolutamente è assolutamente più tranquillo il nonno che ha fatto tre dosi di non essere causa di contagio ok sul tema che ha posto degli ultracinquantenni che finiscono in terapia intensiva Bassetti ha la tua testimonianza molto precisa prima in più mi arrivano due agenzie preoccupanti Zaya dice la pressione negli ospedali è alta se ho rischio giallo a Natale governatore del Veneto e dall'altra parte i portosoccorsi sono in difficoltà faticano a ricoverare perché la situazione non è ancora drammatica ma rischia di diventarlo lo avverte il Simeu società italiana di medicina quindi insomma per dirvi che esattamente l'allarme che ci ha appena dato le muzzi ahimè trova molte conferme in quello che sta accadendo proviamo a vedere come sarà questo pranzo di Natale e il Natale come potremo farlo facciamo un piccolo riepilo un riassuntone delle regole per il Natale professore se lei deve andare via grazie a tutti